Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo verificare che il limite della successione definita dal termine generale a con n uguale 3n più 1 fratto n non vale 2, quindi vogliamo dimostrare che è falsa la seguente uguaglianza, limite per n che tende a più infinito di 3n più 1 fratto n uguale a 2. Cominciamo ad applicare la definizione di limite e vediamo cosa accade. Affinché questo limite sia verificato, dobbiamo dimostrare che comunque si scelgono un epsilon maggiore di 0, quindi per ogni epsilon maggiore di 0 deve essere possibile determinare almeno un numero n con epsilon appartenente ad r scelto in maniera tale che per ogni n maggiore di n con epsilon con n appartenente ad n grande deve essere verificata la seguente disuguaglianza, cioè modulo di 3n più 1 fratto n meno 2 che è il valore del nostro limite minore di epsilon. Vediamo perché non può esistere questo numero n con epsilon. Cominciamo ad effettuare i semplici calcoli all'interno del modulo per notare che il modulo di 3n più 1 fratto n meno 2 è pari al modulo di 3n più 1 meno 2n tutto fratto n, che è pari ancora al modulo di n più 1 fratto n, che è uguale al modulo di 1 più 1 fratto n. Visto che n è un numero naturale, questo modulo è pari proprio ad 1 più 1 fratto n. Tutto questo deve essere minore di epsilon, comunque si scelga epsilon positivo. Ma ciò non può essere vero perché qualsiasi sia questo valore n epsilon che noi scegliamo appartenente ad r, per ogni n che sia maggiore di questo n epsilon può essere ridotto quanto si vuole questo termine 1 fratto n. Però la somma 1 più 1 fratto n non potrà mai essere minore di 1. Di conseguenza non è possibile determinare alcun n epsilon appartenente ad r in maniera tale che questa disuguaglianza sia verificata. Per questo motivo il limite per n che tende più infinito di 3n più 1 fratto n non è sicuramente pari a 2. Bene, per quanto riguarda questa lezione non c'è altro. Vi invito nel caso in cui aveste dubbi o domande da porci ad utilizzare il nostro forum e in ogni caso ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a mettere il mi piace sulla pagina Facebook. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questa lezione.